Cresce la preoccupazione in tutto l'Alto Tevere per la situazione della filiera del tabacco. Sono trascorsi tre mesi dalla comunicazione ufficiale della Japan Tobacco International con la quale l'azienda ha dichiarato di voler continuare ad acquistare tabacco Umbro ma di voler trasferire la lavorazione dello stesso alla Delta Fino di Ospedalicchio. Da quella comunicazione, dicono i sindacati, abbiamo chiesto al Consorzio dei Trasformatori Tabacco Italia di sapere le strategie future alla luce di questa novità. Ad oggi nessuna di queste domande ha avuto una risposta esaustiva. Lo rendono noto le segreterie della Flai CGL, Fai Cisl e Huila Huil dell'Umbria. Delta Fina, spiegano ancora i sindacati, negli incontri intercorsi anche alla presenza delle strutture nazionali ha dichiarato che è intenzionata ad assumere tutti gli operai a tempo determinato dell'Alta Valle del Tevere ma alle precise domande dei sindacati circa la reale necessità sul numero del personale e sulle giornate, oltre che sugli inquadramenti, ha sempre risposto che di tutto ciò si sarebbe parlato dopo l'accordo commerciale con i produttori. E ad oggi non ci risultano, dicono ancora i sindacati, essere accordi in merito alla produzione e questo rischia davvero di mettere in discussione non solo la trasformazione ma tutta la questione della lavorazione del tabacco. I sindacati hanno organizzato assemblee sindacali in tutte le aziende.